In questo video che cosa andremo a vedere? Andremo a vedere quali sono gli errori che puoi evitare di fare per smettere di rimandare, rimandare, rimandare continuamente la trasformazione della tua vita e smettere di continuare a raccontarti che è difficile cambiare le cose, che è difficile cambiare la tua vita in modo da evitare di sprecarla. Io sono Patrizia Sete Educati e ho già aiutato tantissime persone, centinaia di persone che sanno di poter essere di più, ma si sentono insoddisfatte, si sentono bloccate in una vita che non gli appartiene, sentono proprio di sprecarla e le aiutate a seguire il percorso della loro anima in modo che possano vivere la vita straordinaria colma di significato che desiderano. Quali sono gli errori che potresti essere portato a fare pensando che è troppo difficile cambiare nella tua vita? Intanto è cadere nella trappola del piacere immediato, del piacere a breve termine piuttosto che costruire qualcosa che sia utile nel tempo. Mi spiego, quando ti trovi di fronte ad una situazione e la situazione ti porta a fare uno sforzo scomodo, facilmente la tua principale tentazione è quella di rinunciarvi. Perché? Perché noi siamo esseri molto pigri. Io chiamo gli esseri umani un po' le cozze atomiche. Perché? Perché l'essere umano tende a fare ciò che è più comodo, ciò che lo fa sentire a suo agio, ciò che non lo mette in una zona di scomodità. Quindi nel caso tu ti trovassi di fronte ad una situazione che non conosce o una situazione scomoda, anche se sai che ti porterà ad un grande beneficio, ti porterà a delle trasformazioni, ti porterà a sentirti bene, facilmente potresti essere tentato o tentata nel rinunciarvi. Perché? Perché comunque c'è un'inerzia, è come se noi avessimo attaccato dietro una forza che ci trattiene dal fare i cambiamenti, da fare tutte quelle cose che sono scomode. In questo modo che cosa succede? Succede che molte delle attività che sono connesse al cambiamento, tutte le attività che sono connesse al cambiamento, sono qualcosa che ci porta a trasformarci e ci porta ad uscire dalle nostre abitudini, altrimenti non si chiamerebbe cambiamento. Quindi nel momento in cui ti trovi di fronte a qualcosa che va fuori da quello che è comodo per te, facilmente te la racconti, inizi a raccontarti che è troppo difficile, troppo scomodo, preferisci qualcosa di più facile da fare. Ti faccio un esempio pratico. Ci sono tante persone che vivono una vita dove non si sentono al loro agio. Facciamo un esempio della coppia. Avrai visto che ci sono tante persone che si trovano in una coppia dove non si sentono felici, dove si sentono limitati, dove magari non si sentono se stessi, dove non hanno un dialogo. Non c'è l'appagamento di quelli che sono i valori alla base della coppia per almeno uno dei due componenti, che possono essere tantissimi, come la condivisione, come il calore, come lo scambio, eccetera. Ebbene, ci sono tante persone che pur di non attraversare la scomodità di mettere in dubbio il loro rapporto, cosa fanno? Si adattano. Magari soffrendo e anche profondamente. Cosa fanno? Scelgono la via apparentemente più facile, la via più comoda apparentemente. Teniamo conto che quando ci si trova ad affrontare qualcosa di scomodo e il cambiamento è sempre scomodo. Molte persone rinunciano. Perché? Perché comunque preferiscono il piacere a breve termine piuttosto che un beneficio a medio-lungo termine. Nel caso della coppia, ti faccio l'esempio, non è detto che mettere in dubbio, in discussione la coppia porti ad una separazione. Potrebbe semplicemente portare la coppia a un miglioramento nei rapporti. Ma molte persone hanno paura del confronto. Trovano molto scomodo mettere in discussione la situazione in cui si trovano. Hanno timore di mettere in discussione le abitudini. Hanno paura del giudizio del partner. Ci sono tutta una serie di situazioni veramente scomode che si smuovono e allora rinunciano in partenza. Questo è proprio quello di cui ti parlavo. E cadere nella trappola del piacere immediato piuttosto che costruire qualcosa che ti porti un beneficio a medio-lungo termine. La stessa cosa vale anche per tutte le altre aree della vita. Se una persona ad esempio sente di avere tanti talenti, di avere qualche talento nascosto, magari si trova a fare un lavoro che porta avanti semplicemente perché ha bisogno di uno stipendio. Magari si sente un artista, un musicista o qualsiasi altra cosa sente di voler viaggiare per il mondo. Ma mettere in discussione tutto quello che ha costruito potrebbe essere scomodo. E allora cosa fa? Rinuncia. Perché magari ha paura e preferisce qualcosa che le porti un piacere, un sollievo a breve termine piuttosto che crearsi l'opportunità di vivere veramente la vita che desidera. E questa è una cosa molto molto grave perché comunque cosa succede? Il tempo passa e la persona continuerà a cedere alla tentazione del piacere a breve termine, a discapito di ciò che potrebbe veramente portarle una trasformazione a medio-lungo termine. In questo modo rinuncia ai suoi sogni. Il problema è che prima o poi i nodi vengono al pettine e quando una persona ha rinunciato a se stessa per tanto tanto tempo, prima o poi purtroppo dovrà pagare in prezzo. Una delle cose che ti vorrei suggerire in questo caso è di fare ciò che serve e non ciò che è facile. Lo so che ti sto proponendo qualcosa di sfidante perché comunque la trasformazione non è qualcosa di facile ma è il motivo per cui noi siamo qui. Noi non siamo qui per fare le cozze atomiche, noi siamo su questo pianeta per crescere, per migliorare, per far emergere la nostra versione migliore. Non siamo qui per fare ciò che è comodo, per incozzarci su un divano davanti a una televisione semplicemente perché vogliamo avere tutto sotto controllo e vogliamo fare ciò che è comodo, ciò che è facile. Ma questo depriva la nostra vita dell'entusiasmo. Tante persone mi dicono eh al mattino faccio fatica ad alzarmi, dormirei sempre, non mi alzerei mai, sto a letto fino all'ultimo minuto. Perché questo? Perché non hanno entusiasmo, perché la loro vita non è entusiasmante, perché si sono privati di tutto ciò che poteva rendere la loro vita degna di essere vissuta. È certo che è scomodo, ma è il motivo per cui tu sei qui. Tante persone che fanno parte del percorso vita straordinaria mi hanno detto la stessa cosa, ci siamo trovati magari in tanti momenti in cui si sono sentite davanti ad una scelta, una scelta scomoda magari. Ma quello che hanno fatto è aprirsi a comprendere che le scelte in questo caso erano solo due. O scegliere la loro vita mediocre, quella che avevano vissuto fino a quel momento, oppure fare un passaggio diverso che assolutamente passa dalla scomodità. E visto che loro non sono da soli, ma hanno qualcuno che gli aiuta a fare la scelta migliore per loro, ovviamente io non posso fare la scelta per nessuno, hanno fatto la scelta di mettersi in gioco. Perché quello è l'unico modo per creare una vita straordinaria. Non stiamo parlando di creare una vita mediocre, ma stiamo parlando di una vita piena di significato, una vita dove senti che la tua anima guidarti e quindi ti senti come in un cammino benedetto. Non stiamo parlando di vivere un pochettino meglio di come hai vissuto sinora, stiamo parlando di cambiare veramente le cose. E allora per cambiare veramente le cose non puoi fare ciò che è facile, ciò che è stato facile scegliere finora. Ma è importante fare ciò che serve, ciò che è importante fare. Perché se tu fai sempre la scelta più facile, beh la scelta più facile ti conduce solo in una direzione, verso una vita mediocre. le cose facili, le cose facili, e sono quelle che fanno tutti, che scelgono tutti, che sono alla portata di tutti, beh sono quelle che non portano sicuramente a risultati eccezionali, a risultati straordinari. Se tu ti guardi attorno, guardati attorno nella vita, come vivono le persone attorno a te. O sei una persona veramente fortunata, tra virgolette, diciamo che ha saputo scegliere le persone di cui circondarsi, o altrimenti facilmente noterai che attorno a te ci sono tante persone che si lamentano e che fanno sempre le scelte più facili e guarda caso non hanno una vita straordinaria. Ovviamente questa è una scelta, perché quando tu ti trovi di fronte a questa scelta, hai la vita nelle tue mani. Non c'è nessun altro che può fare la scelta per te, non c'è nessun altro che può decidere dove deve andare la tua vita, sei solo tu. Ed è bellissimo questo, perché come hai scelto magari finora di vivere una vita che non ti ha fatto sentire così soddisfatto, non ti ha fatto sentire quel grande significato che in realtà può avere la tua esistenza. Puoi fare una scelta diversa, che ti fa percepire che tu sei prezioso per l'esistenza, che ti fa sentire che sei importante, perché tu stesso prendi il tuo posto nel mondo. Quindi è logico che è più difficile fare ciò che serve in questo caso, perché si tratta di prendere una strada che non hai mai percorso, ma è l'unico modo in cui tu ti puoi sentire veramente appagato e soddisfatto. E ti puoi arrivare a sentire anche un eroe, perché se ti guardi attorno vedi che il mondo non è abitato da eroi, perché ci sono tante persone che vivono in preda alla paura. Ma quando tu, nonostante la paura, metti quel briciolo di coraggio in più che ti permette di fare quel passaggio che può portarti al cambiamento, allora lì cambiano completamente le cose. E quello ti fa sentire un eroe, ti fa sentire che la tua vita può essere veramente meravigliosa. Perché? Beh, intanto senti di aver fatto la cosa giusta, perché quello lo senti dentro. E poi senti che stai facendo magari ogni giorno un pezzetto importante per creare una vita che ti faccia sentire che sei qui non inutilmente, ma che sei qui con uno scopo, che sei qui per fare qualcosa di importante, qualunque sia la cosa importante che sei qui a fare. E ti parlo di una persona, di uno dei miei allievi, che sta facendo alcuni percorsi con me, tra cui Vita straordinaria, che si trovava in una situazione proprio analoga a quella che ti sto raccontando. Tra l'altro con una vita apparentemente ok, felice, professionista, affermato, con una carriera, una sua azienda, un lavoro stabile, un lavoro tra l'altro di famiglia, uno studio di famiglia che stava portando avanti. Il problema è che questa persona aveva rinunciato a se stesso e sentiva che si stava spegnendo in questo cammino. Sentiva ogni giorno che stava negando a se stesso quello che sentiva dentro. Aveva messo a tacere il suo cuore e ogni giorno continuava a dire no a se stesso, a quel bambino che aveva dentro e che gli urlava che lui non poteva vivere così, che doveva vivere in un altro modo. Ebbene, ha cominciato ad ascoltare se stesso, il suo cuore. E ha iniziato a far emergere quello che voleva. Ha cominciato a distaccarsi da quella professione, da quel lavoro che stava portando avanti da anni senza entusiasmo, anzi con un po' di rassegnazione. Certo non è stato facile, perché comunque si è dovuto scontrare con tutta una serie di situazioni che nel momento in cui tu affronti un cambiamento, beh, anche esse si devono adeguare alla tua nuova energia, perché noi siamo tutti collegati. Ma sta facendo questa trasformazione in modo egregio. Ha trovato la sua strada, ha trovato il cammino, ha trovato quello che vuole fare nella vita. Ha cominciato a sentirsi più forte, a prendere il suo posto nel mondo, ad essere se stesso. E sta insegnando questo anche a suo figlio, perché ricordati che se hai dei figli, non sei egoista se ti prendi il tuo posto. Perché i bambini, i ragazzi, non imparano attraverso quello che gli dici. Quello probabilmente gli entra da un orecchio ed esce dall'altra. Ma prendono attraverso l'esempio che tu sei per loro. Quindi se tu sei una persona infelice, che sta rinunciando a se stessa e alla sua vita, questo è quello che insegna anche a loro. Mentre se tu ti permetti di realizzarti, anche se affronti delle difficoltà, se a volte cadi, ma poi ti rialzi, perché senti che quella è la tua strada, loro impareranno ad essere forti e impareranno che loro meritano di essere felici. Proprio così come te lo stai permettendo tu. E quindi se anche tu hai pensato che cambiare vita fosse difficile e magari hai pensato di arrenderti, di rinunciare, di non partire neanche. Io ti suggerisco di rendere utile per te questo video, in modo che ti possa lasciare qualcosa di pratico, che tu possa fare un passo in avanti. Semplicemente perché hai deciso di dedicarti questo tempo nel fruire questo video. Quindi scrivi qui sotto nei commenti cosa potrebbe motivarti in quei momenti, in cui magari ti senti un po' scoraggiato, ti senti in dubbio, affinché tu possa trovare nuova energia. Che cos'è? Quella cosa che ti anima, quella cosa che ti dà la spinta, la motivazione e che è importante per te al fine di fare quei passaggi che ti portano verso una vita non solo migliore, ma veramente straordinaria. Bene, non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti, ti saluto e buon lavoro. Ciao, al prossimo video.